Due new entry per il comune di Montesilvano. Il sindaco Maragno, dopo aver ritirato le dimissioni, riparte con un rinforzo. I due ingressi si chiamano Walter Cozzi, già presidente del consiglio comunale, poi consigliere provinciale a Pescara, e oggi torna con un ruolo di assessore ai lavori pubblici. Accanto a lui l'ingresso di una donna, Lucia Donofrio, del gruppo Montesilvano in comune. A lei il compito della delega al commercio. Abbiamo implementato la giunta così come da programma, perché avevamo intenzione di partire con una giunta snella per cercare di risolvere nell'immediato i problemi più impellenti e l'abbiamo fatto. Adesso l'abbiamo implementato per cercare di migliorare i servizi che noi forniamo ai cittadini e soprattutto cercare di risolvere gli innumerevoli problemi. Walter Cozzi è comunque una persona esperta perché ha già svolto il ruolo di consigliere, di presidente del consiglio qui al comune di Montesilvano, oltre che di assessore alla giunta di Pescara. Invece Lucia Donofrio è alla prima esperienza politica, anche se si tratta comunque di persone dell'ottimo curriculum e che vanta una grande esperienza professionale in quanto trattasi di commercialista che ha svolto il ruolo anche presso importanti aziende private e di revisore dei conti. Mentre Walter Cozzi si occuperà di lavori pubblici e politiche ambientali, Lucia Donofrio invece si occuperà di commercio, di attività produttive, di patrimonio e di valorizzazione comunale. Da un lato lo smaltimento degli incarichi destinati alla sua giunta, che contava il numero minimo di rappresentanti. L'esigenza ora è quella di ampliarsi. Non con nessuna tensione, tutti quanti sapevano che avremmo implementato la giunta inserendo persone di valore e di qualità. Stiamo cercando di fornire il massimo apporto per venire in conto a quelle che sono le esigenze dei cittadini e del nostro territorio. E poi nuovi impegni della giunta tra le priorità e il debito in bilancio. Cercare di portare avanti il programma e soprattutto cercare di risolvere le problematiche economico-finanziarie che attanagliano questo comune. Non è un mistero che stiamo rincorrendo gli eventi per cercare di rispettare il patto di stabilità a fine anno e se non dovesse esserci allargamento delle maglie da parte del governo sarà difficile rispettare questo obiettivo. Noi ce la stiamo mettendo tutta, cercando di contenere al massimo tutte le spese superflue.